La figura che ci accompagna quest'oggi verso la celebrazione della festa liturgica di San Pio da Pietrelcina è una beata, la beata Maria Bolognesi, quella che Francesco Bosco nell'articolo di giugno 2019 della rivista Voce di Padre Pio ha definito la stigmatizzata di Rovigo. Sì, siamo a Rovigo, in particolare a Bosaro dove è nata Maria Bolognesi il 21 ottobre del 1924. E di lei subito dobbiamo prendere in considerazione una frase che spesso diceva Padre Pio a tutti coloro che da quelle zone, in particolar modo da Rovigo, scendevano a San Giovanni Rotondo. E lui diceva, come spesso accade per altri figli spirituali che sono ormai verso la via della santità, diceva cosa venite a fare qui? Avete la vostra Maria a Rovigo, andate da lei. La storia di Maria Bolognesi, della beata Maria Bolognesi è una storia abbastanza significativa, vissuta nella sofferenza e anche nella povertà. Infatti lei da subito, il padre naturale la abbandona, non vuole risposare la mamma e quindi viene comunque battezzata e la nonna, che diventa la persona più importante della sua vita, più influente, le insegna un po' il catechismo, le insegna la sapienza della fede, l'amore per la preghiera. Poi la mamma sposa Giuseppe Bolognesi, quindi Maria acquisisce il cognome Maria Bolognesi. La sua famiglia è povera, quindi abbandona subito la scuola e si mette a lavorare nei campi con i suoi nuovi fratelli per dar da mangiare alla sua famiglia. Infatti si racconta che la povertà era talmente estrema che a volte si riducevano a mangiare le bucce di patata, che le amiche quasi con disprezzo lasciavano cadere sullo sterco delle vacche. E quindi ha subito molto da questo punto di vista, ma lei è sempre una ragazza molto umile, ha sempre seguito quella che era la via della fede, ma purtroppo nel 1940 si apre per lei un periodo oscuro. Maria purtroppo affronta un periodo di possessione demoniaca, un profondo malessere, quindi diventa una sorta di purificazione per lei per due lunghi anni, quasi una sorta di preparazione per la scelta che fa su di lei il Signore. Infatti nel 1941 il padre la immobilizza ed è quello il momento in cui riescono a fare il suo primo esorcismo. Il primo aprile del 1942, mercoledì santo, la situazione si capovolge perché per la prima volta Maria incontra, quindi a questa visione mistica, incontra Gesù. Gesù le appare e quella notte disse, Maria dammi la tua mano destra, questo è un anello che ti dono, cinque sono le piaghe, cinque sono questi rubini che sono incastonati nell'anello. Questo anello un giorno sarà ancora mio, infatti di questo anello non c'è nessuna traccia. L'esperienza di questo fidanzamento mistico, come viene definito anche dalla stessa Maria nei suoi diari, scriverà oltre 2000 pagine di racconti, di visioni, di pellegrinaggi come quello qui a San Giovanni Rotondo. Si tratta di una donna che è stata perseguitata, cacciata perfino dalla chiesa, dal confessionale. In seguito, tutti i venerdì dell'anno, alle ore 15, incontra sempre Gesù. Ogni visione che è accompagnata spesso da delle sudorazioni che provano anche delle sospensioni del suo movimento muscolare, della sua sensibilità. Maria così partecipa a quelle che sono le sofferenze di Gesù sul Calvario. Più tardi Gesù le donerà anche le stimmate, aperte e sanguinanti nei tempi di Avvento e di Quaresima, durante i quali vive esperienze di grande dolore, di grande penitenza. E riceve nell'arco di 11 anni quelle che sono le piaghe, a cominciare dall'incoronazione di spine, la ferita al costato, la flagellazione, la ferita alla mano destra, quindi la ferita ai piedi e la ferita alla mano sinistra, l'ultima, il 2 aprile del 1955. E proprio sul consiglio del suo direttore spirituale lei comincia ad annotare tutto quello che le accade sul suo diario. Nel suo diario abbiamo più volte traccia di padre Pio da Pietrelcina. Si riscontra più volte il suo nome, una stretta amicizia che comincia proprio in quegli anni, negli anni 50, e si protrarrà fino alla morte della Bolognesi che è avvenuta ben 20 anni dopo la morte di padre Pio. Perché? Perché padre Pio più volte si è recato in bilocazione a Rovigo e più volte ha incontrato Maria Bolognesi a casa sua, anche dopo la sua morte. Ce lo scrive e ce lo racconta la stessa Maria, che in qualche modo ripercorre quello che è stato il percorso di sofferenza, di padre Pio, di povertà. Ecco, è dell'aiuto che si vuole dare ai più poveri, in particolar modo ai bambini. E questa era la sua principale azione caritativa, ecco, di andare incontro ai più piccoli, dandogli la possibilità di un'istruzione, un aiuto in questo senso. E forse proprio per questo lei sceglie San Giovanni Rotondo per il matrimonio, matrimonio mistico. Infatti dopo aver vissuto nel 55 la quaresima in Sicilia, subito parte verso San Giovanni Rotondo, arriva qui a San Giovanni Rotondo nella settimana santa, il 7 aprile, che era un giovedì santo, dove troverà alloggio in una delle pensioni che sono proprio posizionate sul viale Cappuccini. E quindi alle 10 del mattino inizia l'annuale partecipazione alla passione del Signore. Allora è 15, Gesù le appare, quindi sofferenze intense che sono segnate da uno straordinario sanguinamento. E' ancora il suo nuovo anello, ecco, questo nuovo anello dove Gesù c'è una sorta di vero e proprio matrimonio, come lo definisce lei, matrimonio mistico. Maria, questo anellino è composto da 5 perline, 5 sono le mie piaghe, un giorno questo sarà ancora mio. E su questo anello era inciso un ecce omo. Gesù così continua a rassicurare questa donna che veniva comunque derisa a volte e non presa in considerazione per quello che era fondamentalmente una donna di chiesa, una donna di fede. Gesù, quando vuoi e come vuoi, se per il bene di noi tutti fosse necessaria la mia vita, ben volentieri. Infatti Maria poi cerca di dare una mano alle parrocchie, ai bambini, raccogliendo fondi, dedicandosi alla pittura. Infatti casa sua, dove sono stato, che oggi è il centro, Maria Bolognesi, è ricca di quadri, di dipinti, di paesaggi, di fiori, di colori straordinari che lei poi metteva a disposizione per venderli e raccogliere fondi per i più piccoli. La sua principale preoccupazione è stata sempre quella, quella di aiutare i poveri. Tu sottolinei Francesco nell'articolo che dici non troviamo nessun riscontro nel diario della Bolognesi circa l'incontro con Padre Pio, quindi è un qualcosa che è avvenuto misticamente, diciamo. Sì, proprio perché lei quando è stata qui a San Giovanni Rotondo, si racconta, lei lo racconta nel suo diario, che è stata, visto il giorno che è arrivata qui, Padre Pio era affacciato alla finestra del coro per il consueto saluto o comunque per la recita dell'Angelus. Questo non lo sappiamo perché lei fa riferimento a Padre Pio affacciato alla finestra, che salutava. Maria però rimane un po' delusa, tra virgolette, da quello che accade attorno a Padre Pio. Cioè il racconto è legato al fatto che molte persone quasi li si buttavano addosso e non riuscivano a, e lei non riuscì, non voleva, non accettava questo tipo di fanatismo da parte dei pellegrini che giungevano qui. Padre Pio era un semplice frate che accoglieva, consolava, a volte si dice Padre Pio burbero, ma Padre Pio non era assolutamente burbero. È chiaro che sotto pressione da più parti, chi lo tirava a destra, addirittura qualcuno che gli tagliava anche il suo abito per portarsi qualcosa a casa, insomma, e Maria è un po' delusa da questo atteggiamento di tanti e lei preferisce partecipare alla celebrazione eucaristica di Padre Pio, non lo riesce ad incontrare, ma sicuramente avrà avuto modo di incontrarlo in altre maniere. Bene, grazie Francesco, la figura di Maria Bolognese ovviamente è possibile approfondirla attraverso i canali che tu ci hai descritto, noi domani continueremo ancora ad approfondire altre figure legate a Padre Pio da Pietrelcina. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.